Musica Vorrei capire cos'è sta roba Forse, vabbè Bello l'indicatore, mi piace Ok, quindi probabilmente penso che ogni season Rilasceranno degli rilasci perfetti per ogni squadra A sto punto Questi guanti, tipo, no, non mi piacciono Questo, vabbè Monete XP, va bene, mi piacciono Due pure, ok, buono Altra monete XP da un'ora Il kart, devo arrivarci per forza, bello Mi piace, il pantalone E il banner con un zack del beat, mi piace I capelli Altra monete XP, no, altri due In teoria da un'ora, sì Bello questo con i Big Tree E dei Warriors E il Dynamic 2 di Miami Bello Bello anche questo qua con Kobe E quello di Curry Del record triple Carine queste magliette 35 Bella, questa mi piace Più bella Cioè, questa qua sempre Della seconda session era bellissima Della session 3 del ghiaccio Bello Drone, bah, vabbè Ci sta Bello Però Non so Vabbè Cioè, funzionerà come Lo stesso come su Su un X-Gen Solo che Cioè Potrei cambiare solo ad esempio Se sei nel Tris Puoi trasportarti Dove sono i 2v2 Però, vabbè Meglio di niente Meglio di niente, dai Grazie a tutti Grazie a tutti